Grazie a tutti, signori, io una cosa la devo dire, vi devo, veramente è un grande piacere, vi ringrazio per la vostra pazienza infinita, perché ho ricevuto lettere, messaggi, una cosa incredibile, inconcepibile, imbarazzante e il senso buono, io ringrazio tutti voi perché giuro che non mi aspettavo un sostegno simile, conoscendovi sono cantato, è stata una cosa emozionante, allora vi dico una cosa, adesso direi di tutto, non è una questione di rettore che io giuro che in gran parte lo posso dire, di un certo tipo di ripresa abbastanza, forte, abbastanza importante dovuto al fatto che ho ricevuto veramente tanto affetto, questo mi ha dato una mano incredibile, ve lo devo dire, giuro, nella verità lo sanno tutti. E seconda cosa, quindi vi ringrazio, anche perché mi sono arrivati anche dei tutti, dei salami, delle cose, ma come ben sapete purtroppo non posso per ora cantare il mio motorino, ho bisogno come dico sempre di essere rodato ancora per un po', io mi devo purtroppo fermare e vi chiedo scusa, quello che potevo fare per stasera l'ho fatto. Per ora non posso per il mio motorino, però il motore va bene e ritroveremo presto le cose dei tempi migliori. Dio benedica a tutti voi. Grazie Daniele Sacco! Dopo, per stare lì, il motorino, così dopo, non ci capisco come cosa vuoi me la racconti. Motorino, motorino nuovo! Comunque questo qui veramente è tutto, tutto l'affetto che ti hanno sempre dimostrato e che a noi non hanno mai dimostrato. Non ci puoi via con il barba, auguri allora! Adesso ti porta barba in te? Adesso andiamo a ballare! Non ci puoi andare! Ciao Danilo! Ma per me non è, ma per me non è, ma per me non ho, è il benzino del motorino? Cominciò a stare un po' malino anch'io, mi piacerebbe che aveva un po' di quella benzina.